ci siamo si apro le gabbie partiti i cavalli della tris quartè e quintè l'unica che rinuncia alla partenza è sgarbina che lascia lì una cosa come 5 lunghezze per il resto sono tutti veloci all'uscita dalle gabbie in particolare la più veloce è clandestina che però ha bisogno di una schiena forse la trova in wolfgar terza corsia per joker's heart poi in quarta posizione troviamo braccialetto rosso a precedere red spritz my good boy con la giuba rossa invece troviamo in mezzo al gruppo ambizioso preceduta da greet catherine poi all'interno con la giuba bianca c'è anche stramonium a precedere carpe dream poi light never goes out e a completare il quadro penango che lascia in coda sgarbina e soprattutto danzig evolution che ha perso qualche posizione cavalli che vanno ad affrontare la prima parte della curva wolfgar in vantaggio joker's heart che si è posizionato ai suoi fianchi in terza all'interno c'è clandestina poi in quarta red spritz a precedere un terzetto formato da stramonium my good boy braccialetto rosso e poi all'esterno soul of race sgarbina che ha recuperato greet catherine che prova a far l'arrivo dall'interno ma quando siamo all'ingresso indirittura d'arrivo il primo ad aggredire wolfgar è proprio joker's heart che passa di slancio a traguardo lontano red spritz si lancia all'inseguimento all'interno c'è anche clandestina ancora più all'interno light never goes out ci prova sgarbina riconoscibile dalla giuba gialla torna in quota anche wolfgar greet catherine che però deve trovare lo spazio ma in tutto questo torniamo in cima perché al paletto dei 200 joker's heart è ancora davanti e sta controllando per il momento red spritz che gli fa lo spunto addosso si avvicina anche lo stesso penango con joker's heart ancora davanti penango che recupera penango che prova ma joker's heart resiste vince joker's heart doppietta per il team belluscio boccardelli doppietta anche per pasquale borrelli ma penango è stato autore di un clamoroso e poderoso recupero non è riuscito però nell'aggancio definitivo rivediamo il tutto attraverso l'aiuto dello stretto ma le telecamere indugiano proprio su joker's heart numero 2 dello schieramento che è andato in lungo anticipo è riuscito a battere penango poi il terzo posto è andato a solo of race al quarto red spritz e al quinto greet catherine numericamente dunque l'ordine d'arrivo è composto così 2 al primo 3 al secondo 6 al terzo poi 1 al quarto e 7 al quinto 2 3 6 1 7 dovrebbe essere questo l'ordine d'arrivo ufficioso dovrebbe essere questo l'arrivo che noi vi serviamo in maniera ufficiosa vince joker's heart il figlio di angiall che conquista così la vittoria numero 4 in carriera pasquale borrelli al doppio così come fabio boccardelli al doppio in giornata matteo belluscio 2 3 6 1 7 è l'ordine d'arrivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti